Avrà 25 negozi in più, sarà più grande di 9.000 metri quadrati e costerà 20 milioni di euro. Ecco il progetto del centro commerciale Metauro a Bellocchi di Fano, una struttura che verrà completamente ristrutturata all'esterno, nella parte già esistente e ampliata verso monte. La nuova galleria comprenderà 5.400 metri quadrati riservati agli esercizi commerciali, fra cui note catene, 500 metri quadrati dedicati alla ristorazione, 1000 per le attività non commerciali e un ampliamento dei magazzini. Una parte dell'edificio avrà anche un'area dedicata agli eventi e il parcheggio esistente a sud-ovest verrà spostato e ampliato. Ai 5 ettari già esistenti se ne aggiungeranno altri 3 e i lavori sul fabbricato, che cercheranno di provocare meno disagi possibili ai clienti, avranno inizio dopo l'estate e potrebbero terminare già per ottobre del prossimo anno. L'assessore all'urbanistica Marco Paolini ha messo in evidenza l'indotto economico che verrà creato dal progetto, in grado di potenziare, ha detto, l'offerta commerciale della nostra vallata. Nelle relazioni presentate si parla di 200 nuovi addetti e di oltre 25 nuovi esercizi, quindi sicuramente c'è con questo intervento qualcosa che muove l'economia e l'occupazione. Poi non dimentichiamo anche gli aspetti del cantiere, perché anche le maestranze verranno chiamate a lavorare in un intervento che dura parecchi mesi, sicuramente 12 mesi ridura anche di più, quindi tra nuove assunzioni, nuovi esercizi e indotto, sicuramente una cosa significativa. Il progetto che include modifiche sostanziali alla viabilità è completamente finanziato da Gallerie Commerciali Italia. Innanzitutto l'asse viario che collega via Settima Strada a via Meda andrà a scomparire. A suo posto verrà realizzato un nuovo collegamento più a sud con via Inaudi, con una rotatoria più grande che andrà ad aumentare la sicurezza degli automobilisti. E migliora anche l'aspetto della mobilità sostenibile, perché sempre ai margini di questo comparto, quindi questo è il corpo di fabbrica nuovo che viene aggiunto, il vecchio corpo di fabbrica, vedete qui ci si può arrivare con una ciclabile che viene realizzata e che al margine sud del comparto poi prevede di oltrepassare l'autostrada con un sottopasso esistente e andare verso la zona di Bellocchi. Quindi questo nuovo assetto della viabilità mantiene i collegamenti esistenti e introduce anche questa possibilità ciclabile nuova.